Ciao a tutti e bentornati con Onimusha. Allora, l'ultima volta eravamo arrivati qui che ci hanno fatto la proposta indecente Oh, scusate il mouse Esatto, esatto Delle armi formidabili in quel luogo Ma Si Si, prontissimo Non è vero ragazzi, sarà un suicidio secondo me Non ho idea, fra l'altro non so nemmeno Non so nemmeno se faccia parte Della storia principale Out Ops Ecco appunto Bene Fatto No, impossibile Non può essere già finito Sarà tipo Un'altra zona Credo Si Ma vai a cacare Ok Qualcun altro Sento il battito Sento il battito Salve un osso che non sta molto bene evidentemente Bene Bene Ma dai Coglione Cosa fai? Cosa miri? Eh, vabbè Un po' di vita no, eh Per carità Eh, eh Per fortuna va Si stanno mettendo a dura prova comunque Au Perfetto Vita? Ma che Speriamo bene Ma dai Lasciami cura Lasciami raccogliere Più che altro Vita, vita, vita Ma che Però Si va avanti, eh Prepariamoci Perché Per qualcuno di grosso Fra poco Secondo me Che botta Ok Thank you No Stavo solo Volevo solo prepararmi per la cosa Per usare la medicina Continuiamo Io ho come l'impressione ragazzi che Siamo un po' troppo avanti Perché questi nemici qua Avremmo dovuto trovarli in game Non qua Nelle Oscuretà Nelle profondità Scusate Uh 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 Mi ha fregato Infamous Infame Bene Proseguiamo Proseguiamo Gradirei vita Grazie Più o meno Finchè non attaccano Rotolando Questi qua sono Fattibilissimi Ancora qui giù Oh No Ah per fortuna No l'avevo fatto Però non aveva funzionato Mi sembrava Non so Che botta E un po' di vita Meglio così Dai Fatevi sotto No Dove l'hai fatto No 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 Poi là Ah Che goduria Ancora qui giù Vabbè No Ma sei un idiota Ma che mira di mer Dai Ma dai ragazzi Ma non ci credo Dove cazzo Ha mirato prima Se mi sbaglio Sempre io Un pulsante più stupido Per usare la mappa Non potevano Metterlo eh L'analogico Destro Cazzo Au Ma perché Mir dove cazzo Ti paro ogni volta Perché Stronzo Ma se ti dico Di là Ma che palle Oh Niente Quando punta Chi cazzo vuole Lui Veramente È un fastidio Perché diventa Difficile A metà strada Assorbi anime Ammazzano Quanti nemici ci sono qua What? Quante cose abbiamo qua Vediamo Erba per 5 Medicina Un'altra Ah No Beh questo divano era facile Se avesse un po' più mana Cazzo Pussa via Niente vita Grazie No 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 Voglio continuare Ce la posso fare Credo Ehi la Au Che cazzo è Ah Perché c'è quel mostro Rà maledetto Sì Venisce del bene Bene Proietti Le esplosive Bene Mi devo curare ragazzi Purtroppo Speriamo bene Ma quanti piani sono Torca vacca Mentecatto Oh 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 Ma perché mi eri di là? Oh 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 Mentre era invisibile Non dimentichiamoci di questa però Erba Bene Perché ci servirà sicuramente Ehi, 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 buoni, buoni, buoni Ok Talismano Cosa fa il talismano per curiosità? Ah Forte cavolo Ovviamente cerchiamo di non usarlo Cattivi questi Giustamente colpisci dove vuole lui Non avrebbe Non avrebbe troppo facile Altrimenti Erba di nuovo Ok Eh 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 Ah noi due E allora Niente qua mi batto Ecco appunto E tu Filchè uno alla volta Ci va benissimo così ragazzi Ecco appunto Parlato troppo presto Beh niente anima questo Bene Ma quanto manca Che ansia Ah Speravo di buciare pure questo assieme Questa mappa di merda Ehi là Dov'è? Qui venisse del bene Eh ma che cazzo Facciamo un osso Ma che cazzo Miri Per curiosità Ma vaffanculo Che cazzo hai mirato Merdina Che fastidio ragazzi Cioè non vi dico Buono 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 Usiamo un po' di erba va Un'altra Ok What? Ma le anime dove sono Di questi qua Per curiosità Ehi là No Infame Non è ancora finita Che palle Se avesse un po' più vita Cavolo Un po' più mana Oh i là Eh vabbè Non potevo operare Le tutti Delle gran mazzate Sto prendendo qua Oh carina Bishamon Au Au Ahi oh Ma vaffanculo Ahi 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 Ma ti venisse del bene Fino alla fine ce l'abbiamo fatta ragazzi Eh ma non mi sembra che abbiamo preso chissà quali cose stratosferiche Ah forse era questa allora la cosa interessante Grazie Non puoi usarlo qui E qua potenziamo tutto è come non mai Oh perfetto Quanto di sfida E cosa fa il guanto al massimo per curiosità E vai Shippoo potenziali a livello 3 Bene Tanto non ci serve più a niente ragazzi Il coso Proiettile esplosive Frecce in frecce infocate Ok Bien fatto bene secondo voi Boh Proseguiamo eh Au Ma dove cazzo stai mirando Ma stai scherzando o cosa Ma Questo qua spacca i culi Oila Oh esatto Questo qua l'abbiamo già visto noi Perché abbiamo un po' antecipato i tempi Au Ma cazzo Ma quanto scarsa è questa cosa qua Quanti tempi dobbiamo usare Ma Erano più deboli comunque nel reame eh Vabbè ci vado io dai Non ti preoccupare Scarsone che non sei altro Ah ok Ho capito Quindi per forza dobbiamo andare di là Armiamoci E partite Uila Ma vaffanculo Ogni volta mi frega sto qua Eh vabbè Ancora Ma brutto infame Anche Cazzo Eh vabbè Va andate a cagare Ah Maledetto Togliate gli esplosivi Grazie Grazie a voi Non c'era mica il pozzo qua No vero È dopo il pozzo E ovviamente niente vita eh Bene Qui c'è l'altro coso Vediamo se a noi ci parla Sì Di nuovo No no basta cazzo Basta Cioè non abbiamo più medicine Per cui boh non lo so Torniamo indietro Basta Dark Realm Ha già dato direi Dobbiamo solo capire se Se aprire questa porta qua Oppure andare avanti Ma che cazzo ancora Mamma mia Spezzente Maledetto Dai Sblocca Su Vediamo cosa c'è qui dentro Super pienone eh Oh cazzo La testa è stata rimosse Bastone della Vergienza Cosa fa questo Potrà far brillare Brillare la fluorite Ah ok Bene Ah probabilmente con la testa La ho capito dai Ok quindi per il momento Ma basta Hai rotto il cazzo eh Ma vaffanculo Possibile che sia più veloce Lui Che è uno zombie Di me Che sono un ninja Samurai Ma che palle Il cazzo c'è qua Ma è andato a cagare Che è meglio Niente Sono morto Ma dai Ah 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 Vediamo cosa c'è di qua E questi? Ah Vero Curbacchioni Oh cazzo Sono tantissimi Ops Un altro colpo dai Aiuto No sta mappa di merda Ma vaffanculo Ah beh Amai gli estremi estremi rimedie Cazzo No ho finito la magia Katana contro ascia Ok Proiettili normali Testa di stato Ah ho capito Questo qua so dove va Perfetto Spado ornamentale Anche questo so dove va E qua Ah Bene E vabbè E vabbè Pensavo di avere un'erba in più Invece mi sbagliavo Salviamo allora nel frattempo Che ci sono nemici qua sotto Sicuramente Eh beh Strano che Vabbè Andate a farvele mettere Da qualche parte Giusto perché Non voglio essere troppo volgare Wow Cosa ho tagliato I bambusi Figata Bene Ah Allora Piccolo cieco Ci tocca tornare indietro Dammi lasciate stare Fastidio Non è possibile Perché infuocate? Ah perché ho solo questo probabilmente Vabbè Vabbè va Ho un po' di vita Vediamo ragazzi Mettiamo il coso qua All'elmo Adesso si apre dietro Immagino Ok Uccidio amiccia Wow Ah Finalmente Adesso c'è che ragioniamo Ancora Che palle Vediamo un po' di andare Ad usare Ciao 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 E che palle Fa male Fa male? Gredi si Grazie mille Ma quanti colpi ho? Ma lo so Ah Per forza Bene Bene Che botta Ogni volta Ogni volta mi fregano Quando fanno così Gli venisse del bene Sì sì Ho capito Ho capito Va bene E mo dove si va Acqua e lucenti Oh Oh Ui là Ci ha per questa? No Qua ci serve Becca Eda Probabilmente Sì 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 Ho capito Ecco Lo segui Qui ci dovrebbe essere Un piccolo achievement Simpatico Da fare In teoria Posso abbassarlo In qualche modo Non così eh A quanto pare Ho creato una freccia Per niente Fuck Memorie numero 6 Temo che questa sarà la mia ultima nota Il sangue continua a sgorgare dalle mie ferite E ho a malapena la forza di scrivere Per chi leggerà questo documento Ho disegnato un'illustrazione su come per il portale del male Se riuscirai ad acquisire gli strumenti necessari Potrei allora varcarlo Osserva ciò che si trova oltre la soglia Fa sapere al mondo che un simile luogo esiste davvero Ok Au Cosa? Che cazzo Primo c'è Maledetto infame E neanche un po' di vita Fra l'altro Proiettile normale Un altro? Brucia Grazie Adesso vengo lì da te Infame Nooo Non ci credo Che smacco Ancora Ma quanti di invece stupidi ci sono Dai Dai Starto Eh Mega Mega Wow Ah un po' di mana in più Vabbè Ok E qua Cosa? Ma che cazzo fa lì Quello lì O se è buggato oppure non so Ah Mega Tama vitale Grazie Ah Eccolo qua Cosa serve Quello Ok Bene E finì di sotto Ancora Vabbè ragazzi basta E mi rotta le palle Pesto Veniamo ad usare un po' di oggetti qua Ah Perfetto Vitalità demoniaca Che abbia Potenziato al massimo la vita Non sarebbe male come cosa Ah Eccolo qua Eccola qua Eccola qua la zona degli Delle carpe Quella achievement Ragazzi Guardate Aspettate Aspettate eh Dai Ah Eccolo qua Infizzalo Bene Adesso andiamo di qua O di là Ok Direi di qua Un attimo save point Oh Questi qua Ma Vita Ah Bene Si Peccato Che siamo al massimo Di tutto qua Non che ci dispiace Per carità Però Allora Un nemico qua Così mi piace Ragazzi Così mi piace Bene Ah Eccolo qua Allora Lower left Upper right Lower right Lower left Lower right In teoria Armaturoni Wow Adesso la mettiamo Allora Vediamo un po' Questa super armatura No Dov'è che è di qua Ah ecco Wow Mi sa che è buona Eh Non so perché Ma questo ponte Non mi convince Neanche un po' Boh Secondo me Prima o poi crolla Staremo a vedere E qui Allora Cosa può essere potenziato Tramite le anime Dei demoni Terza e sesta scelta Terza E sesta scelta E vai Perfetto Megatama Non usato Che bello Potenza Vediamo se possiamo potenziare qualcosa Proiettili Bene ragazzi Noi qui Chiudiamo la puntata Tanta roba Tanta roba In questa puntata Grazie Alla prossima Alla prossima